Il calcio mercato dei dilettanti non conosce sosta, esce allo scoperto la vis ariano di Gerardo del Vecchio. La compagine del tricolle di Patron De Rosa ha ingaggiato tre pedine di assoluto spessore, vestiranno infatti il bianco-azzurro. L'attaccante Antonio Volzone, classe 93, nella passata stagione il bomber ha fatto parte delle ioni di sicunanza, sempre da Blaugrana. Gli arianesi hanno preso Carmine Coppola, esterno classe 98, che ha già giocato in eccellenza nelle fila delle clanese. Ottorino Iannella, classe 2003, va a rinforzare invece la batteria degli under. Il DS Santoro lo ha strappato ad una fulta concorrenza. Lascia invece ariano, dopo tante battaglie, Leonardo Luzzi, che andrà in eccellenza pugliese. Anche se ci ha fatto un pensierino su di lui, Vincenzo De Vito, il nuovo DS, del città di Avellino. Città di Avellino che per la panchina starebbe pensando a Francesco Sgambati. Il tecnico baianese è in cima alla lista dei desideri del nuovo direttore sportivo dei Biancoverdi. Scendendo di categoria, il nuovo Monteforte, che prenderà parte al prossimo campionato di prima, grazie all'operato del DS Gianni Mazzola, ha ingaggiato gli ex calciatori del Mercogliano, Golpe e Michele Giliberti. I due hanno vinto insieme il campionato a Mercogliano due stagioni fa ed avevano iniziato, nella passata stagione, la loro avventura ad Altavilla. Grazie. Grazie.